Scegli un solo giocatore tra la formazione del Bayern Monaco 2012-2013 e Liverpool 2018-2019. Neuer o Alisson? Neuer. Lamo o Alexander-Arnold? Alexander-Arnold. Boateng o Van Dijk? Van Dijk. Dante o Matip? Dante. Alaba o Robertson? Robertson. Javi Martinez o Fabinho? Sono stati due aghi della bilancia, scelgo Javi Martinez. Schweinsteiger o Anderson? Schweinsteiger. Müller o Wijnaldum? Müller. Robben o Salah? E alla fine Salah per quello che è stato per il Liverpool. Ribery o Mané? Ribery. Mandzukic o Firmino? Firmino perché ha cambiato il modo di fare il numero 9 ancora prima di Gabriel Jesus.